Non è marxista, però col cuore sovranista? Diciamo che ritengo che oggi il solo modo per difendere i diritti sociali dei lavoratori e delle classi più deboli, nonché la democrazia, sia insistere sulla sovranità nazionale come baluardo di resistenza rispetto alle potenze post-democratiche dell'economia. Cioè l'economia globale mira a superare le sovranità nazionali, dice, per evitare i conflitti, le guerre, in realtà per rimuovere democrazia e diritti sociali, una grande controrivoluzione gestita dall'elite cosmopolitica a documento dei lavoratori e delle classi popolari. Questa è la globalizzazione. Da osservatore esterno che non ha tessere di partito mi limito a sostenere che peggio di questo governo c'è soltanto tutto il resto possibile nella misura in cui questo governo con i suoi limiti, le sue contraddizioni, se non altro ha posto al centro due principi fondamentali che sono primo quello della sovranità nazionale, quindi meno Europa, meno globalizzazione, più Stato, più difesa dei diritti della sovranità nazionale e in secondo luogo una difesa delle classi deboli. Vorrei svolgere una considerazione generale a partire da questo caso emblematico. Siamo al cospetto di un nuovo modello di produzione che io definisco turbo capitalistico che non aggredisce più soltanto le classi lavoratrici tradizionali, operai di fabbrica e lavoratori, ma aggredisce anche i vecchi ceti medi perché il caso del signore in questione è l'esempio classico di un imprenditore faceva parte della borghesia, la si chiamava una volta, che oggi sta subendo tanto quanto gli operai di fabbrica l'aggressione di un sistema della produzione cannibalico che non vive più del lavoro ma vive parassitando il lavoro altrui e di fatto sempre più si consegna al primato del capitale finanziario. Questo è lo scenario in cui ci troviamo. Per cui se non riusciamo a porre un limite al sistema dominante, esso sì letteralmente... Vedo testa e capralica disperati da questo discorso. Mi spiace per l'Arcigno, signore, filo albionico che prima contraddiceva... Cos'è filo albionico? Filo albionico perché fa il perana dell'Inghilterra con il rispetto. In Italia il marxismo era rappresentato da Galvano della Volpe e Lucio Colletti con cui ho avuto l'onore di laurearmi. Ecco, quello era il marxismo, non queste banalità, queste banalità assolute. Devo correggerla perché di marxismo in Italia ce ne sono stati molti, Galvano della Volpe... Ma non aprirei il dibattito su marxismo, di chicco testa, poi arrivo Antonio. Essenzialmente la globalizzazione è un intreccio di tecniche e capitalismo, è molto ingenuo pensare che la tecnica sia un altro mondo rispetto al capitale di una tecnica, è un veicolo fondamentale del capitalismo. La globalizzazione comporta una competitività a ribasso, una distruzione dei posti di lavoro, significa che se in India producono a 5 euro ciò che in Italia, pur con maggiori competenze, si produce a 10, si dovrà produrre in India abbassando i costi dei lavoratori, distruggendo le imprese locali. Questa è la bellezza della globalizzazione, per cui le possibilità sono due. O la secondiamo e procediamo verso le catombi dei lavoratori e degli imprenditori, come il caso del nostro amico, oppure proviamo a regolamentarla, cercando di fare un processo di globalizzazione più civile, più umana, che implica una potenza del politico, la possibilità sovrana di disciplinarla. Non sono due cose parallele, tecnologie e globalizzazione sono il nemico da questo punto di vista.